Il tour di Alice fa tappa ad Arezzo in una fortezza gremita di spettatori. Sul palco, assieme ad Alice, Carlo Guaitoli, pianista e direttore d'orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent'anni, e la violoncellista Chiara Trentin. Benvenuti in questo splendido luogo, bellissimo. Come sapete, questo concerto è interamente dedicato a Franco Battiato. Queste le parole della cantante in apertura del concerto a Retino, una notte all'insegna delle note e della poesia, con le canzoni proprio di Franco Battiato. La luce sul vulcanano indicherà l'uscita, dal fuoco delle tenebre scelgo una nuova vita. Si intitola Eri con me, il nuovo progetto discografico di Alice, con il quale vengono proposte 16 canzoni del cantautore siciliano scomparso nel 2021. Questo concerto è dedicato a Franco, ha sottolineato l'artista sul palco, ricordandolo più volte tra gli applausi dei presenti. Alle origini del progetto c'è la storica collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato, un percorso riproposto brano dopo brano sul palco a Retino, dal vento caldo dell'estate del 1980 al tour Battiato e Alice del 2016. Eri con me, paio nero con te.